E quindi io sono abituato a parlare di filosofia quando mi capita a persone che di filosofia non ne sanno niente e quindi vi chiedo scusa se scendo di tono perché ho sentito cose molto belle, anzi a questo punto di quello che è stato detto, essere il sesto traccodanto seno è un po' difficile perché molte cose di cui avrei potuto parlare sono state abbondantemente sviluppate soprattutto a partire dal primo intervento in poi di carattere storico e poi via via. Bene, la maggior parte di voi, che io vedo sempre in penombra, la maggior parte di voi ragazzi sono neofiti della filosofia, cioè ragazzi che hanno cominciato praticamente quest'anno lo studio della filosofia perché suppongo che siano il primo anno del quando si fa Aristotele. Dico bene oppure mi sbaglio? È vero che siete neofiti? Quindi da neofiti parliamo di cose molto elementari, molto semplici. Io vorrei semplicemente farvi notare qualcosa, fare un paio di osservazioni di premessa e poi cercare di portarvi semplicemente a un punto in cui cercherò di fornire una chiave di lettura, una chiave di lettura un po' particolare e originale ma mi viene molto semplice dopo il discorso di tipo psicologico che ha fatto il mio collega che mi ha immediatamente piaciuto. Allora, voi che avete fatto filosofia quest'anno vi siete resi conto certamente che tutto l'inizio della storia della filosofia è legata e ritorna continuamente dai primi filosofi che avete conosciuto, dei primi filosofi dell'Ellade, la filosofia nasce nell'Ellade, è vero, e vi siete accorti che i primi filosofi cercavano qualcosa che chiamavano l'arche, cioè qualcosa che è all'origine di tutto perché di fronte aprivano gli occhi, immaginate un bambino che apre gli occhi di fronte a ciò che lo circonda. A quel punto si chiede ma cosa c'è al di là, che cosa c'è, che cosa sono queste cose. L'arche a un certo punto Parmenide lo definisce, in qualche maniera lo individua questo arche come la fiusis. Focalizziamo, facciamo, qui non c'è il sistema di zoom, ma zoomiamo sul concetto di fiusis, ma cos'è questa fiusis di cui si comincia a parlare per i fiusos, del renum natura poi se l'ha tradotto in latino, vero? Allora questa fiusis che parte da Parmenide in poi ma che è implicita nel concetto di archela, ma che cos'è? Allora per capire il concetto di fiusis bisogna un po' ricorrere in qualche modo, bisogna un po' fare un discorso filologico, bisogna ricorrere alla lingua greca a cui noi dobbiamo molto. Qui c'è un gruppo del liceo classico quindi spero che ci capiamo bene. La lingua greca di cui si dice, ma anche serve oggi studiare il greco, alcuni ci infilano dentro anche il latino. Beh il latino sarebbe molto scadente oltre se non ci fossero state le sue radici greco, ma la filosofia, tutta la storia della filosofia si capisce poco se non si mette in relazione, in rapporto con la sintassi, la grammatica e il messico greco. Bene, la fiusis, fiuo, che significa fiuo? Qualcuno dei classici mi può aiutare? Che vuol dire fiuo? Fiusis è la sostantivazione di un verbo? Nessuno di voi l'ha mai ingrociato? Fiuo? Ah non ci sono quelle del classico? Non l'hanno ancora fatto? Ah non parlano? C'è una fascia? Allora fiuo, fiuo, da cui deriva fiuo, ha a che fare con fiuo e un soffio di vita? Fiuo, l'aspirazione, è il respiro di vita. Allora la fiusis è qualcosa di vitale, qualcosa che dà la vita e che nutre. allora la fiusis per gli antichi era in qualche maniera una figura materna. È una cosa curiosa che vi dico perché magari non sempre ci si fa caso. Guardate che nella lingua greca c'è questo concetto di fiusis che poi verrà catapultato in tutta la cultura greco-latina. Ma nelle lingue semitiche, faccio a caso, prendo una grande opera, una grande opera polimorfa perché è fatta di tantissimi libri, nella Bibbia, nella lingua ebraica, non esiste un termine riconducibile alla fiusis, non esiste, ma non un termine soltanto di carattere lessicale, non esiste il concetto di natura. Quindi il concetto di natura è tipicamente greco, cioè è tipicamente tipico della filosofia greca. E allora cosa esiste? Perché poi qui ci entreremo in un discorso molto complesso e che non c'è neppure il tempo materiale per farlo. Ma nella cultura ebraica, di cui noi peraltro siamo in qualche maniera eredi e figli, perché noi siamo, come dice Averinchev che è uno scrittore straordinario russo, noi siamo tenuti da due colonne portanti, Atene e Gerusalemme. E quindi non parliamo a caso, il paragone non è casuale, io non mi sto riferendo ai cinesi oppure pesce, mi sto riferendo proprio alla cultura di Gerusalemme, quindi alla cultura ebraica, figli della Bibbia perché il cristianesimo ce l'ha veicolata eccetera eccetera, e alla cultura greca. Il concetto di Fiusis è tipicamente invece greco, mentre in altre culture non è presente. Allora, nel V secolo il miracolo greco, quello che chiamiamo miracolo greco, è quello di aver dato il via alla ricerca filosofica, si può configurare come il rapporto tra il soggetto conoscente, i primi filografi e la natura. Io vi invito a pensare, per un bambino che apre gli occhi di cui parlavo prima, che apre gli occhi alla vita, il suo primo oggetto, il primo oggetto. Ma secondo voi chi è il primo oggetto del bambino? E? Oh bravo, grazie, e meno male che c'è lui che mi segue, che si chiama? Federica. Grazie Federica. Allora Federica ha detto la madre. Bene, allora, eh sì Federica mi renderebbe un applauso. Un applauso. È segno che stiamo facendo un discorso così che lo stiamo seguendo in zona. Allora il primo oggetto del conoscenza è la madre. Ma guardate, in cui chiedo aiuto alla psicologia, alla psicanalisi di Freud e della scuola psicoanalitica, in particolare di Melanie Klein, che hanno parlato dell'oggetto. Allora se la fiusis, se l'oggetto di conoscenza del bambino è la madre, ma non è la madre come oggetto contrapposto, è come un oggetto che sta al di là della soggettività del bambino. No, la madre è un po' è parte del bambino stesso, cioè il bambino la avverte come parte di sé. E la madre non è tutta intera, ma è quella che la Klein chiama un oggetto parziale. Questo oggetto parziale, pensateci bene, per il bambino ancora che non ha capito bene quanto è grande il mondo e l'universo, è il seno materno, da cui prende il latte e quindi da cui prende la cosa più importante che c'è, il nutrimento. Allora questa è già una metafora estremamente interessante, io penso, perché per gli antichi filosofi la fiusis in qualche maniera è una madre da cui si prende il nutrimento. Fiusis infatti è la nutrice, quella che nutre. Quindi tutto questo discorso e questa metafora che mi serve? Mi serve semplicemente per proporvi il concetto che la conoscenza, la conoscenza degli oggetti, quindi la conoscenza oggettiva e di conseguenza la dimensionalità soggettiva del soggetto conoscente nasce da questa posizione. Potremmo configurarla in questa condizione e cioè il bambino conosce la madre attraverso un rapporto di ricerca di che cosa è la madre. Ma i bambini sono sempre molto preoccupati rispetto alla madre, sia quando cercano il latte, quindi quando vogliono essere nutriti, sia via via la presenza materna, la presenza dei genitori stessi è avvertita come una necessità, come un bisogno, come una condizione di vita. Tanto è vero che spesso gli incubi dei bambini stanno nel fatto di perdere i genitori o l'affetto dei genitori. È vero o no? Quindi è importante questo fatto perché a un certo punto si ha bisogno di pensare che la madre Fiusis con cui si ha rapporto ci sia sempre, non sia passeggera, non sia mortale, diciamo così, non sia soggetta alla scomparsa, ma sia presente, sempre. C'è allora nella filosofia, se vogliamo continuare con questa metafora che mi è particolarmente carica. Allora, se vogliamo continuare su questa metafora, vediamo che nella storia della filosofia la Fiusis spesso viene considerata, viene mitizzata, viene considerata, attenzione, non più come oggetti che stanno nel mondo, quello che si diceva prima, con oggetti della fisicità, quella che non sono tafusica, cioè tafusica sono le cose fisiche tangibili, ma spesso comincia ad essere considerata come qualcosa che ha caratteristiche che vanno su un'altra dimensione. In Platone, ormai l'avete fatto, quindi diciamo una cosa semplicissima, c'è a un certo punto una, si introduce una forma che chiamiamo del dualismo, cioè da un lato c'è le cose fisiche che sono tuttavia passeggere, su cui non bisogna contare troppo, mentre le cose che contano, quelle che non finiscono mai, stanno in un'altra dimensione siderale. Vi ricordate il concetto di iperuraneo che già avete fatto? Allora, le cose vere, quelle che vere, cioè le essenze delle cose, quelle che non conoscono prepuscoli, stanno nell'iperuraneo, cioè stanno altrove, mentre le cose fisiche sono, diciamo così, soltanto delle apparenze. Ricorderete sicuramente il mito della caverna, ricordate tutte queste cose. Bene, procedendo attraverso questi dualismi, cosa succede? che a un certo punto la conoscenza, il filosofo, nella sua ricerca, il bambino deve crescere, anche il filosofo deve crescere e quindi la storia della conoscenza attraversa una strada, una evoluzione, una strada evolutiva. Il ricercatore che cresce, il soggetto conoscente che cresce, a un certo punto deve prendere le distanze dal genitore, si deve affrancare dalla dipendenza genitoriale, questo succede a tutti i bambini, succede anche a voi, cioè la persona adulta è quella che va verso l'affrancamento dei legami infantili e quindi quello che va verso l'indipendenza, quindi va verso la conoscenza della propria soggettività. Notate bene una cosa, subiectum viene, questa è una cosa molto semplice che ci arrivate tutti attraverso i latini, subiectum significa che soggetto non è che è il protagonista di un'azione di conoscenza di se stesso e chi è che lo rende capace di riconoscersi soggetto? La relazione con l'oggetto. Se non esistesse l'oggetto, il soggetto non riuscirebbe mai a riconoscersi come oggetto. Dico in un altro modo più semplice, se non esistesse la mamma e il papà, se non esistesse l'oggetto con cui confrontarsi, non esisterebbe la coscienza, la possibilità di riconoscersi nella propria soggettività. Non so se questo è abbastanza semplice, abbastanza chiaro. Quindi è proprio nella relazione. Guardate che nel quinto e quarto secolo a.C. quando si in Grecia si stabilizza, diventa ormai diffuso il dialetto attico, entrano in gioco la declinazione. Nella declinazione del nome che noi abbiamo perduto, c'è ancora, però è soppintesa, nel senso che non ce l'abbiamo esplicitata, almeno nella lingua italiana. La declinazione del nome, i primi casi che emergono in maniera chiara sono il nominativo e l'accusativo. Prima l'accusativo, poi il nominativo. Non solo, ma la lingua greca ti dà ancora di più il senso della relazione, ti dà niente di meno una cosa completamente perduta. Il duale come numero in cui viene chiarissima la presenza relazionale tra il soggetto e l'accusativo. Questo sarebbe da approfondire, ma questo non è farlo sicuramente. E quindi, mi hanno detto che si sente del piediccio che dà partidio in qualche maniera, quindi se potete, è questione di poco perché siamo ormai all'indirittura d'arrivo. E quindi a dove era arrivato? Allora il problema della declinazione che è presente. Quindi per riprendere il discorso su Platone, quindi in Platone c'è sicuramente questa, dico così, questa divergenza tra la fisica, che sono le cose che vediamo, che sentiamo, che cadono sotto i sensi e che in qualche maniera ci danno l'illusione della conoscenza, mentre la vera conoscenza si può andare a trovare, si può andare a cercare attraverso una strada molto più articolata che non è soltanto quella conoscitiva, ma che passa attraverso l'esercizio della virtù dell'ascesi, si può andare a cercare invece nel mondo siderale di cui parlavamo prima. Perché abbiamo fatto tutta questa ampia premessa? Una cosa molto semplice per andare alla conclusione ed è questa, che l'eredità di Platone, l'eredità platonica, quella di cui parlava la donna prima nell'accademia, dove si discuteva molto, dove si contestava e si criticava molto, qual era il nocciolo proprio il più complesso, più controverso delle discussioni dell'accademia. Possiamo immaginare che il nocciolo più controverso per quelle notizie scarne che ne abbiamo dai dialoghi e dagli iscritti platonici, scusate, dagli iscritti aristotelici, gli aspetti più problematici che erano relativi proprio a questi dualismi, che erano rimasti in piedi con la filosofia platonica. Allora, dualismo, ma cos'è la verità? Mettiamola così con una parola molto semplice e molto onnicomprensiva. Cos'è vero? Quello che noi possiamo vedere? No. Allora che cos'è vero? Quello che non possiamo vedere? Quindi quello che sta nella sideralità dell'iperuraneo? Che cos'è? Quindi, ma allora, il corpo quanto vale rispetto all'anima di cui abbiamo parlato prima, rispetto alla possibilità di conoscenza dello spirito? Allora, ecco, forse era qui tutto il problema. Questo problema del dualismo, dei dualismi platonici, non si è fermato soltanto all'accademia, alle discussioni con gli allievi di Platone. È un problema che poi si è proiettato nella storia per un semplice motivo, perché il platonismo prima e poi il neoplatonismo dopo, quella della filosofia del Plotino, hanno inevitabilmente, sono stati adottati dal neonascente cristianesimo, quindi dalla cultura cristiana che ha incrociato, che aveva bisogno di una coine per potersi esprimere e quindi sono stati adottati e nel tempo si sono diffusi. Guardate che passeranno secoli prima. Aristotele nell'accademia ha cercato di risolvere il problema dei dualismi e infatti qual è stato il merito, direi, di Aristotele? Perché ne stiamo parlando con la fisica? La fisica intanto non è un trattato così aristotelico in senso stretto perché non lo ha pensato lui ma è stato messo insieme da scritti diversi di Aristotele. Quindi io non voglio cercare di entrare sul discorso del trattato della fisica di Aristotele che è stato compilato intorno al primo secolo, quindi duecento e ce ne passa anni dopo Aristotele stesso. Quindi qui non c'entriamo proprio. Ma mi interessa soltanto una cosa, la fisica è intesa come scienza della fiusis e quindi come scienza degli oggetti, come scienza delle cose. Che cosa ha portato Aristotele in questo modo? Aristotele ha detto guardate, questo è un concetto che è stato espresso poco prima dal professor Chiarato, quindi lo accenno soltanto ma senza ripetere, ha detto soltanto una cosa, guardate che come non esiste una casa, ecco, semplicemente un aggregato, un insieme smattone, ma esiste il progetto, l'architettura della casa che rende reale, la rende reale perché c'è la materia, chiamiamola così in maniera grusolana, dei mattoni, ma poi c'è la forma che è il disegno della casa, il progetto della casa che la rende calda. Allora Aristotele non ha fatto altro che questo, ha cercato di partire da ta fisica, cioè dalle cose fisiche, dicendo che non esiste scienza o non esiste conoscenza, è lo stesso discorso, perché grazie a questo fatto poi è stato possibile arrivare al 1600 con Galileo attraverso tutta una serie di passaggi che adesso non diciamo perché tra l'altro non li avete ancora fatti, ma è stato possibile arrivare alla scienza reale e cioè è stato possibile a quel bambino che era abituato a succhiare dal seno materno il latte della conoscenza, è stato possibile arrivare al punto da riconoscere la fiusis, la madre, quella che prima lo ha nutrito e gli ha dato il latte, riconoscerla come oggetto paritario, cioè il soggetto si pone nei fronti all'oggetto in termini di parità e quindi può veramente trattare l'oggetto, capite che trattare l'oggetto significa pure interrompere, cioè entrare nella logica della scienza naturale, qui il merito di Aristotele alla fine, merito che Aristotele non ha potuto cogliere immediatamente per la ragione che ho detto prima, perché il platonismo è stato dominante per i secoli successivi, quindi con tutte le accensioni possibili con tutte le manovre anche distorcenti possibili. Aristotele partendo dalla fiusis, da fiusica, ci ha regalato la possibilità di spingerci fino all'età adulta e quindi all'età adulta dal punto di vista della conoscenza della filosofia. La filosofia diventa adulta quando riconosce che la materia, diciamola con questi termini grossolani, la materia deve essere il terreno, la base di partenza perché si animi di forma e questa diventa in conoscenza reale. Quindi non va sottovalutato tutti gli aspetti materiali della conoscenza, tutti quelli di cui si parlava prima, la biologia per esempio, tutti gli aspetti vitali diventano approfondibili soltanto se c'è il riconoscimento dell'oggetto totale. Quindi ecco il senso del titolo di questo discorso, siamo passati dall'oggetto parziale che è una fiusis ancora materna, maternale, all'oggetto totale che invece è l'oggetto nella sua completezza e che dà la dimensione piena anche alla conoscenza del soggetto.